aspetta mi servirà acqua prima cosa acqua un attimo scusa poi andiamo a prendere un poco di questo rosso andiamo a prendere un po di bianco poi prendiamo prima cosa cosa vuoi quello che vuoi tu sto facendo una cosa ma io avevo detto poco poco scusa ma ti sto facendo ti devo fare bianco tutta faccia no no proprio tutta no 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 metà forse non ti è chiaro no non mi è chiaro non ti riesco a toccare alla fine gli occhi dei fatti e mi scusi non avevo capito bene sono un po' assurta prendiamo un pennellino prendiamo un bel colore nero ma devo fare solo una cosa madonna fanta benedetta o è sosterosa non fai smorfia io ti sto dando i baci non ti sto dando le smorfia so qui amo il pennellino e prendiamo un po di giallo giallo nero giallo nero è diventato allora poi prendiamo il viola sto facendo una cosa precisa eh precisissimo guardami bene e dai ma scusa zia mi face ridere non potevo tenmi una bocca aiuta apri sto facendo una cosa puoi mettere dei roto e andare un po' sui denti e dai un attimino una spugnettina la tavolta no non no non faccio sempre la stessa parte stai calma no io sto calma ma che fai zia tu devi dipingere fai i baffi e te lo fai no ma sono una femmina sono una femmina quindi soli qua un po' così il trucco occhi mi devi farlo ora mettimi un po' di viola segnami il marrone marone il marrone mi puoi mettere che il colore un po' contro chi stai zia che cosa è questo zia che mi guardi così dobbiamo fare una linguetta ah i dentini i dentini riempio no no come la tua vedi basta prendiamo un pennellino questo devo fare una cosa molto 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 precisa sciacquiamo il pennellino cosa avevi una una come si dire un neo ah come si dire un neo coloriamo perché i neri sono questo è un blu sono un puff sono ma che mi vuoi colorare tutta la faccia blu prendiamo questo pennellino guardate tutti pubblico così ha fatto basta zia ti prego l'ultima da vincenzo che sta scrittando un tocco proprio un tocco raccontiamo noi praticamente abbiamo detto zia ha promesso di truccare sia a vinci che a fabbi ci devo fare una scritta lo non lo sai addirittura vuoi farmi vabbè come la fa che mi hai scritto? e leggi e con i elli ah quindi sono tutte monosillabi ah bravo zia e salutiamo a tutti quanti ci vediamo al prossimo video buon carnevale a tutti io pure tu buon carnevale non no Grazie a tutti.